Vangelo Deli, il podcast che ci accompagna ogni giorno con il Vangelo. Buon ascolto. Martedì 16 maggio, lettura del Vangelo secondo Giovanni, capitolo 6, versetto 5-11. In quel tempo, disse Gesù ai Suoi discepoli, Ora vado da colui che mi ha mandato e nessuno di voi mi domanda dove vai. Anzi, perché vi ho detto queste cose, la tristezza ha riempito il vostro cuore. Ora io vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il paraclito, ma quando me ne sarò andato, ve lo manderò, e quando sarà venuto, egli convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Gesù sta per tornare al Padre e sente il bisogno di premunire i discepoli dalle tentazioni dello sconforto e anche dell'apostasia. In tali circostanze dolorose, i discepoli sperimenteranno angoscia e sofferenza, simile alle dolie del parto, ma la loro tristezza, ci dice il Vangelo, si trasformerà in gioia quando Gesù tornerà a prenderli con sé. Dice Gesù, è bene per voi che io me ne vada. Parole dure, che spaventano. I discepoli stanno per perdere il loro amico, maestro e pastore. Sono impauriti e non vogliono lasciare andare colui che li ha amati come nessun altro. È difficile per noi comprendere che un distacco fisico e una lontananza incommensurabile non debba significare abbandono e solitudine, come sempre sperimentiamo quando qualcuno a noi caro ci lascia. Se c'è una cosa che ci spaventa, è proprio l'assenza di chi amiamo, l'eclissi di ciò che conta, la scomparsa dell'orizzonte di senso che ci guida. Eppure, la partenza di Gesù avrà l'effetto opposto. Gesù arte dal desiderio di lasciarli perché, limitato dal suo corpo, dal tempo e dallo spazio, non può abbracciare e dare vita a tutti. L'amore in fondo è come il fuoco. Non può essere soffocato solo se gli lasciamo spazio. La grande quantità di ossigeno gli permette di divampare. L'andarsene di Gesù non è una cosa da piangere e da temere. L'andarsene di Gesù è un atto di amore che crea un vortice che risucchia anche noi dietro di Lui. Prima Lui era con noi. Adesso è in noi. La sua assenza è fondamentalmente il fondante perché noi possiamo nascere. Lo strappo ci fa nascere e crescere. Lo stacco è fondamentale perché noi possiamo vivere. È lo stacco delle doglie del parto che ci fa rinascere dall'alto, che fa nascere l'essere nuovo. Il suo partire è chicco di frumento che se non cade in terra e non muore, rimane solo, non porta frutto, ma se muore, crescerà. Gesù ci spiega che questa partenza è necessaria per la venuta del Consolatore. Lo Spirito farà ripartire la vita perché ridonerà la fede, fiducia e sarà un difensore capace di far luce sul peccato, sulla giustizia e sul gegizio. Grazie per aver meditato insieme e se questo podcast ti è piaciuto condividilo con i tuoi amici ed amiche. A domani. Grazie per aver guardato il nostro canale. Grazie a tutti.